Benvenuti alle nostre breaking news. Traffico estivo, siamo nella prima settimana da Bollino Rosso. Autostrade per l'Italia, per favorire la circolazione, ha già ridotti i cantieri in autostrada, sia di giorno sia di notte. Però i disagi non mancano comunque, anche nel tratto retino vanno segnalate alcune situazioni di disagio che creano qualche problema alla sosta, soprattutto nelle cosiddette aree parcheggio e anche in carreggiata. 28 pattuglie impiegate per monitorare il territorio alto tiberino. I carabinieri della compagnia di Sansepolcro hanno compiuto una serie di controlli ad ampio raggio. Alcol, stupefacenti, violazione al codice della strada sono stati gli ambiti sui quali soprattutto si sono appuntati questi controlli, che hanno visto impiegate complessivamente 28 pattuglie. È ufficiale il dissequestro dell'erba sintetica dell'antistadio Buitoni di Sansepolcro, così ha deciso il PM Marco Dioni. Alcuni mesi fa il manto sintetico era stato rimosso per essere sostituito nel progetto di rinnovamento complessivo dell'impianto. Il riutilizzo del materiale del peso di varie tonnellate era stato bloccato dai carabinieri forestali, che avevano apposto i sigilli e i rotoli di erba, considerandoli come se fossero un rifiuto. Soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda è stata espressa da Palazzo delle Laudi, sede del comune di Sansepolcro. Queste erano le nostre breaking news. Grazie a tutti.